salve a tutti oggi vorrei recensire una roma marca azad va bene che si chiama notturno inglese notturno inglese va bene va bene lo sto spapando va bene sull'expromiser v3 e non sa di niente sa di poco veramente poco sa di poco non è sgradevole scusate per il brufolo che c'ho qua sul naso ma youtuber peggiore di me non esiste peccato perché per esempio il tarkish extra dry che ho già recensito invece subito preparato subito sguazzato va bene tutte cose è simpatico assolutamente non extra dry anzi è dolcissimo ma è simpatico questo invece questo notturno inglese non sa di niente e vuol dire che ci vuole la maturazione vuol dire che uno lo lascia lì tre mesi quello che è e poi sicuramente spunterà fuori l'aroma che cacchio ne so certi liquidi non è proprio necessarissimo ma hanno bisogno di un po di maturazione niente di tragico può darsi pure che il tarkish extra dry sia risultato bene con la pesca con la pesca e il notturno inglese meno bene o mondo e no paradiso ovviamente io faccio bestia non faccio il bestia su internet però tipo i liquidi li provo qua li provo su altri tank li provo in button feeder se un liquido è buono è buono anche se lo svapi su su questo brobrio qua che è un quad coil che ammazza qualsiasi aroma quindi un liquido buono è buono basta c'è poco da fare poi ci sono liquidi che col tempo acquistiscono sapori e quello è un altro discorso quindi non mi venite a dire ah forse hai sbagliato il sistema sul quale svaparlo che queste sono fantasie che avete voi o ronzo sessuali dello svapo va bene quindi whatsapp e quindi vergogna